Sono Paolo Boccola, ho 35 anni. Sono felicemente sposato da 12 anni con Elena Ferrari. Abbiamo due stupendi bambini, Samuele e Sofia, di 4 e 12 anni. Di professione faccio il progettista meccanico. Mi voglio impegnare per il mio territorio, mettendo a disposizione l'esperienza maturata in 5 anni di amministrazione, perché ritengo che noi, e parlo della mia generazione, siamo ad un video. O ci rassegniamo ad essere considerati sempre giovani per tutto, facendo i poli di batteria, oppure dobbiamo avere il coraggio di usare un linguaggio diverso.